arc simpson 4.45.0 ricordo che questa è una guida a scopo illustrativo e non assumo nessuna responsabilità di danni uso proprio del materiale come potete vedere funziona tranquillamente ricordo che se avete le vostre ciambelle prima verranno consumate le vostre e al raggiungimento dello zero potete continuare ad acquistare tranquillamente adesso vi faccio vedere ho 36 ciambelle vado nello store voglio mettere cassonetto e ne posso mettere quanti ne voglio adesso siamo a ciambelle zero voglio mettere il lampione e lo metto tranquillamente è perfettamente funzionante spero che vi piaccia lasciate un like iscrivetevi al canale alla prossima